Unica e irripetibile Carla Fracci, il 26 agosto ci sarà uno spettacolo proprio a Cervia dove dedicato a Carla, Carla Fracci Munamur, questo spettacolo ha la supervisione del maestro Beppe Meregatti che noi salutiamo, che è stato anche ospite da noi nella prima puntata. Una storia emozionante, Cledi ce la racconti? Sì, assolutamente, inizialmente questo spettacolo era previsto in sua presenza, prima della pandemia, anzi doveva essere una sorpresa, insieme a Silvia, la mia socia in questo cammino, abbiamo pensato di fare questa sorpresa alla signora Fracci, abbiamo parlato con maestro Beppe, ci siamo messi d'accordo, poi durante, insomma, sappiamo bene, marzo, aprile dell'anno scorso c'è stato tutto il fermo, abbiamo dovuto dirlo a lei e poi l'abbiamo spostato ad ottobre e di nuovo per l'ennesima volta non si è potuto realizzare e abbiamo aspettato l'estate dove lei gli ultimi due anni veniva spesso tra Milano e Marittima a Cervia, passare un po' di vacanze insieme e abbiamo deciso di farlo proprio lì, in piazza Garibaldi a Cervia, solo che poi è venuto, lei è venuta a mancare e è diventato uno spettacolo, insomma, in suo onore, in sua memoria, ma ce la stiamo mettendo a tutti, non soltanto io, Silvia, insomma Beppe, ma tutti i ballerini, amici, colleghi che balleranno per lei, onoreranno lei quella sera.